Vediamo che cosa può fare il nuvola combinando le sue due principali funzioni. Pensate che senza l'uso di detersivi e con igiene garantita al 100% potrete sterilizzare i vostri pavimenti, basta azionare il vapore che scioglierà tutto lo sporco e quindi aspirare. Con questo innovativo sistema di pulizia abbiamo la possibilità di eliminare completamente l'uso dei detersivi, ottenendo la sterilizzazione di ciò che stiamo pulendo grazie alla forza del vapore a 160 gradi. Abbiamo racchiuso la forza dell'acqua in nuvola. Con nuvola basta scope, basta detersivi, basta aspirapolvere. Nuvola igienizza la casa in modo perfetto. Nuvola è ovviamente adatto a tutti i tipi di pavimento, marmo, cotto, grass, moquette e addirittura superfici delicate come il parquet. Con la funzione di ricarica continua, nuvola non si fermerà neanche se finisce l'acqua nella caldaia, basterà ricaricarlo con semplice acqua di rubinetto e si ricomincerà subito.